Ciao a tutti, sono qui con il photobook Dayway V with little friends. Ragazzi, io sono morta quando ho visto che facevano questo photobook. Io voglio che la SM lo faccia a tutti quelli che hanno tipo animali, cani, roba varia. Questo è lo sticker che c'è attaccato fuori. Che io impazzisco per queste cose, ma perché non lo fanno tipo, non lo so, anche per Cianino e Toby o Seune Vivi. Io impazzirei, questi vi faccio vedere dopo e vi faccio vedere prima il photobook. Tra l'altro è bellissimo, ma guardate, questa è una foto di una famiglia pazzesca. No vabbè, no vabbè, no vabbè. Tra l'altro è stracompatto, mi piace un sacco. Vabbè comunque, inizio a farvelo vedere. Anzi, mi tolgo prima. No, è impazzisco, mi giuro, mi giuro. Sam, ti prego, farlo fare a tutti, a tutti. No, vabbè. È troppo bello. Che fatica. Io amo i gatti poi. Ne ho uno in casa e li amo, anche i cani ovviamente. Però guardate, queste sono foto di famiglia perfette. Mamma bella. Vorrei essere bella, sempre per sempre. Mamma mia. Vabbè, lo sapete che i Wavy sono uno dei miei pallini più grandi. Guardate che belle. Cioè, trovate uno che vi guardi come Lucas guarda bella, no? Perché è allucinante. Mamma è Andri. Che bello che è. Ma teia young. No, è stupendo. C'è una zanzara che mi sta girando intorno. Spero che non mi punga. Povero Wavy. C'è una zanzara che mi sta girando. E' bellissimo questo gatto. Cioè, io amo i gatti. Sono una delle poche persone che se deve scegliere tra cane e gatto, dice gatto. Come ten, credo. Ah no, anche Taylor una volta aveva scelto gatto. Era stato l'unico. Infatti è uno dei miei bias. Ma guardate che belli. Mamma mia. Mamma mia. No, no. Io scrivo una lettera all'SM. Che voglio... Un piedino. Che voglio... Un piedino. Zampetta. Che voglio... Fotobook così sempre. Che bello, comunque, i capelli rossi. Guardate! Bello, cicciottino. Che... Ten ha detto che sono un po' in sovrappeso. Anche il mio gatto è in sovrappeso, quindi... Penso sia abbastanza normale. Cioè, non in sovrappeso che non riesce a tirarsi in giro, però un po' cicciotto. No, è finito. Ah no, ce ne sono ancora. Ha ha. Guardate. No, sono adorabili. Mamma mia. È stupendo. Allora, poi abbiamo... Questo che credo sia proprio foto di famiglia. Lo stendi. Esatto. Ma, cioè, ma è... È bellissima. Stupenda! Va bene. Questo è le photocard. Che credo siano... Eh... Presenti tutti i membri. In teoria. Ma credo sia rando. Il pacchettino. No, qui abbiamo BSM, eccetera, eccetera. Ok. Vediamo. Yes! Abbiamo Kun. Che belle anche le photocard. Credo che il retro sia uguale, sì. Oh, se ne è toccata una. What do we win? No, vabbè. No, vabbè. Illegali. Mi piace un sacco che si aggiungo i capelli neri. Un sacco. Andrei. No, è questa patata di Yaya. Che belle che sono. Bene. Penso di aver rifiuto a vedere tutto. Sì. Per questo unboxing è tutto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!